Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora nel disordine della mia libreria con un annuncio che penso vi farà molto contenti. Allora signori, sabato 16 luglio 2022 ore 19 su questo canale live con John Mariani che ci presenterà alcuni pezzi pregiati della sua collezione di armi da fuoco, della sua collezione di pistole. Perché parleremo di pistole iconiche degli ultimi 150 anni, parleremo di pistole che per un verso o per l'altro, grazie alla fotografia, alla loro importanza storica, grazie ai film, sono diventate parte dell'immaginario collettivo di tutti noi. Parleremo di pistole leggendarie e John ci farà vedere alcuni pezzi della sua straordinaria collezione, pezzi eccezionali, pezzi rarissimi e costosissimi. Quindi, cari signori, ricordatevi, sabato 16 luglio 2022 su questo canale live con John Mariani ci presenterà degli straordinari pezzi della sua meravigliosa collezione di armi da fuoco. Ci parlerà di pistole iconiche, pistole leggendarie, pistole che sono entrate nel mito degli ultimi 150 anni. Quindi, cari miei, non perdete questo evento eccezionale, non perdete questa straordinaria occasione per parlare con un esperto a dir poco leggendario di armi che hanno fatto la storia, di armi che sono nella storia. Quindi, cari signori, vi aspettiamo, io e John Mariani, vi aspettiamo sabato 16 luglio 2022 su questo canale ore 19. Ce lo siamo capiti? Signori, come sempre, un grazie e un caloroso ciao a tutti voi. E ricordatevi, sabato 16 luglio ore 19 live su questo canale con John Mariani che ci presenterà 35 straordinari pezzi della sua straordinaria collezione e parleremo di pistole iconiche degli ultimi 150 anni. Non mancate, non mancate, non mancate, non mancate, non mancate, non potete mancare. Chiaro? A presto allora.